Cosa estremamente importante prima di iniziare il video Se la prossima volta qualcuno vi dice Che non si possono aggiustare le cose sbattendole Sta mentendo Ho appena aggiustato il microfono sbattendolo Ho registrato questo video già una volta Ho fatto 20 minuti di video Sono state buttate In pratica perché non ha funzionato Il microfono, adesso l'ho sbattuto e funziona Quindi un ottimo modo per aggiustare i microfoni Signori è sbattendoli violentemente sulla scrivania Seguitemi per altri consigli Ora, perché sto facendo questo video Soprattutto il titolo è molto un clickbait In realtà è vero Sto chiedendo aiuto perché Come già vi ho preannunciato sono mesi Se non anni che io voglio aprire questa fumetteria Eccetera, insomma con questo sogno Un po' ci abbiamo tutti quanti Finalmente l'abbiamo realizzato Finalmente siamo riusciti a aprire questa Questa piccola casa comune Le cose stavano andando tutto bene Al che poi chiaramente la gente aumenta Le persone, la community si allarga E non tutte le persone poi sono uguali Non tutte le persone poi possono rispettare Quello specchio di realtà Quel desiderio che tutti noi condividiamo Non abbiamo mai voluto Stronzi, presuntuosi, eccetera Quindi le promesse che già ho fatto Cosa è successo? Venerdì sera c'è stato un torneo Un torneo GOAT Dove io, al quale io ho partecipato E facevo anche da supervisore Non mi chiamerò mai giudice Supervisore Aiuto Cerco di aiutare le persone Che non sanno bene le regole I timing, eccetera A cercare di migliorare Per le mie possibilità Scarse possibilità Ridotte possibilità Ma è quello che posso dare E quello do Arrivato al secondo o terzo Non mi ricordo Incontro questo ragazzo Che ha uno stun barn Quindi ovviamente Usa le camicia gravitazionale Livello di metà B Servitore di pace Sentinella di pace Messaggero di pace Bene A parte che nessuno di loro Dicharava fasi Loro iniziavano Pesco Faccio questo Cercato di dire più volte Scandite le fasi Insomma Anche perché vi aiutano Con le proprie carte Perché? Perché se tu dici Do stand by Main Stand by Stand by Te guardi il terreno Ok C'ho da pagare Con il messaggero di pace E allora paghi Con il messaggero di pace Perché se tu ti scordi Che succede? Che il messaggero di pace Lo devi buttare Bene Siccome se l'è scordato Se l'è dimenticato Più volte Questo messaggero di pace Io gli ho detto Guarda La prossima volta però Che non paghi Lo devi togliere E già lì Mi ha cominciato Un po' a guardare male E mi ha cominciato a dire Vabbè Asimo L'ho attivo Un po' scazzato Gli ho detto Guarda che Semplicemente perché Se tu non fai Determinate cose Cioè il gioco è sfalsato Perché se tu ti dimentichi Di pagare La carta viene distrutta Fine Perché c'è scritto Paga ogni certo 100 life points O ogni stamp Oppure distruggi questa carta Se tu non gli paghi Viene distrutta Fine È un misplay Chiamo come devare Però Sono le regole Scritte su carta Questa cosa Lui l'aveva veramente Gli aveva dato fastidio Poi gli ho consigliato Chiesto Per cortesia Non cambiare la posizione Delle carte Sul terreno Perché era un continuo Sposto questo Sposto di qua Mette le gambe Gravitazionali qui Magari qui Se c'era il buco Gli dà fastidio Lo sposto Non si può fare No Perché Anche l'ordine del cimitero Non può essere cambiato Prendono Mischiano Quindi uno cerca Poi nel limite Della Della mia pazienza Di ripetere le cose Più volte Ignora queste cose Lo rifà in continuazione Al che poi Quando gli faccio notare Il messaggio di pace Mi dice Oh però E già lì comincio Un po' a nervosirmi Perché Non è Sono le regole Insomma Se ne esce con una frase Stavamo a far torneo Dell'edicolante In modo chiaramente Dispregiativo In modo Proprio di un mancanza Di rispetto incredibile Perché la cosa Non mi ha dato fastidio Come me l'ha detto Quello che mi ha detto E che proprio Ha attaccato Un progetto Che noi Ci sudiamo da anni Ha attaccato Un progetto Ha denigrato Un figlio Che noi cerchiamo Di partorire Da dieci anni Da quando Ha chiuso L'ultima fumetteria E l'aria aperta Sempre lui Fortunatamente Grazie a Domenico E voi State qui Grazie a Domenico Voi adesso Giocate a Yu-Gi-Oh Grazie a me Perché se non ce sto io Qua Che vi aiuto Che vi organizzo Qua I tornei non c'erano Non mi dovete Di grazie Mi frega niente Però Un minimo di rispetto Per La location Per dove sei E non trattarla A pesci in faccia Perché è proprio brutto Quindi mi sono veramente Incazzato Quella sera Non ho fatto sbracciate Io ho detto Vabbè Senti Hai vinto Va continua Dai mi fai danno Wow C'è stato il fuoco Armatura Arma segreta Bravo Ok hai vinto E me ne sono andato Tutto il resto della serata L'ho passato Maledicendo il formato Ma in realtà Non è proprio il formato Era proprio La persona Che mi aveva scatenato Un odio incredibile Ho fatto veramente Tante cose brutte Non a loro Chiaramente Diciamo a me stesso Nel mio intimo Diciamo Perché c'ero veramente Rimasto Male Ma proprio male Il sabato Facciamo il torneo Ammazzato Tanti ragazzi nuovi Contentissimo Arrivo con questo ragazzo Che gioca Puppet Cominciamo a giocare E vedo che fa Un effetto Di burattino Lui dice che non l'ha fatto Quindi mi sono sbagliato io Attivo questo effetto Prima di te Distrugge Il mostro del serenino Pesca una carta E ne pesca un'altra Distruggo due Pesco due Poi dopo un po' Attivo distruggo uno Pesco uno Ok Questa cosa un po' Mi puzzava Però l'ho lasciato fare Poi carino E' arrivato A un certo punto De combo In cui Mi doveva distrugge Un segna mostro De Nibiru Con l'attacco originale Va bene Fallo Insomma C'era un Una determinata situazione In cui Doveva distruggere Il segnaio De Nibiru E ho detto Va bene Fallo Ma ha fatto danno Ha vinto Va bene Chiaramente questa cosa Non può essere Perché l'attacco Originale di un segnalino Non ce l'ha E' l'attacco Che viene attribuito A un determinato effetto Sono andato Al Col telefono Ho cercato Segnalino Quanto altro Per fargli legge In realtà Non ho trovato un cazzo E io ho detto Guarda Mi sono sbagliato In realtà Non era così Però non ti preoccupare Ho sbagliato io E' finita lì Quindi Gli ho anche Ceduto la partita Ricordatevi bene Quello che è successo Poco dopo Però si avvicina Un altro ragazzo E mi fa Guarda Ma a me mi ha usato Questo effetto Ma io non so sicuro Se è giusto In pratica Io avevo utilizzato Un Gimme Puppet Per fare un danno Però lui dice Danno a metà In realtà Gliel'ha fatto intero Ho fermato il ragazzo Ci abbiamo riparlato E lui ha detto No non è vero Ti sei sbagliato Quindi anche l'altro ragazzo Si è sbagliato Ha avuto una problematica Anche con un terzo ragazzo Che lui dice Guarda Si in realtà Ha fatto Tipo Boh 10 misplay Però Gli ero tutti lasciati andare E È un torneo Fortunato Ancora non Sanzionato Konami E quant'altro Quindi Diciamo Siamo stati molto Clementi Su questo lato Quindi un po' Tutti Abbiamo lasciato Un po' Così le cose Chi se ne frega La problematica però È venuta Quando poi Gli abbiamo fatto notare Queste cose Che non è un Hai sbagliato a fare queste cose Ora paghi E quant'altro Perché tra l'altro È arrivato pure primo Questo carino Voglio chiarire che non è che noi Vogliamo fare Questi tornei Alla Carlona Semplicemente che Siccome la community È molto giovane Allora Non cerchiamo Non voglio essere Non voglio creare subito Un ambiente molto competitivo Molto pesante E quant'altro Quindi Preferisco Far passare Determinate cose Può dire A fine partita Guarda Quest'altra cosa Come ho fatto Per il segnalino appena detto Va bene fallo Perché comunque Volevo dargli la vittoria Per Quindi non è una Questione del Facciamo cosa cazzo di cane È un Cercare di far crescere Questa community Piano piano Quindi Le regole sono importanti E vanno sempre rispettate Abbiamo Semplicemente dato Un Un'impronta Un po' più Leggera Almeno Per i primi incontri E la problematica È saltata Quando poi Si è Diciamo Si sono un po' Affervorati gli animi E soprattutto Quando io ho fatto Una scenetta E dire Eh sì So dieci euro Chi se ne frega E quant'altro Però so dieci euro Cioè A me frega niente Arriva primo Secondo e quant'altro Però Se lui ti fa passare I misplay E tu e quell'altro Se per esempio Lui non ti ha fatto passare Tutte quelle cose Che tu hai sbagliato Oh che miseria Uffa Sbattendo i piedi per terra Facendo questa faccia Io ho detto Beh come i ragazzini Allora Mu faccio come i ragazzini Se lui non ti ha fatto passare I misplay Mi hai perso E io ero arrivato primo Mu 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 Chiaramente In una situazione Palesemente ironica Ricordate questa scena Al che Finisce tutto Però Insomma ci salutiamo Dai bella Marco Bella Dai regà Tutto a posto Cioè ma non Vabbè sti cazzi Passeggiando Poi ci fermiamo In pizzeria Due tavoli più avanti C'era tutto il gruppetto Di questi Nuovi ragazzi Questo nuovo gruppetto Che è venuto a fare il torneo E vedo che sono Parecchio agitati Perché infervorati Sento Determinate cose Che non vanno bene Sento determinate cose Che andrebbero dette In faccia E non al tavolo Con gli amichetti Quindi mi alzo E mi sedio al loro tavolo Guardo questo ragazzo Che c'ha gimmick E un altro ragazzo Che ha giocato Contro di me Mondoscuro Lo guardo e mi fa Guarda Scusa 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 Non so se hai sentito Ma scusa Io non avevo sentito Un cazzo di quello Che lui diceva Perché era di schiena Quindi io non leggevo Il labiale E non Vedevo Non sentivo proprio Quello che aveva detto Sentivo solo il gimmick Al che ho capito Che lui stava sbretando Perché Ho giocato cash tira Per due turni Ho tirato shifter Carinello Non ha fatto niente Io Gli ho anche chiesto Scusa a lui Ho detto guarda Scusa mi dispiace L'ho pescato L'ho usato Mondoscuro Mora da troll Mora da shifter Mora da altre cose A me mi è capitata Qua carta per due volte Ho vista con lui E io Gli ho anche chiesto Scusa a questo E dietro Mi sbracciava Incazzato Ma non è questa La cosa più grave La cosa più grave È successa dopo Quando il ragazzo Ha Io l'ho sentito Ha utilizzato La frase Il pezzo del Tu sei arrivato Io potevo arrivare primo Contro di me Dicendo Che io mi ero anche lamentato Del fatto che io dovevo arrivare primo Lì mi sono veramente infervorato Ho alzato la voce E ho detto Cioè tu mi stai Praticamente prendendo Una scenetta Palese scenetta Sbattuta di piedi Come i bambini Fatta palesemente apposta E la stai usando Contro di me A quel punto Lui ha detto Una frase incredibile O poco dopo Insomma Nella cacciara Oh Ma è il torneo De civita vecchia Cioè Vincere il torneo De civita vecchia È un po' come Il torneo Dell'edicolante Sono proprio persone Che Non hanno capito Un cazzo Dello spirito In cui vogliamo Che ci abbiamo messo La fatica Che abbiamo fatto La fortuna Che ci hanno Ci sono persone Che darebbero Una palla Per averci Il torneo De civita vecchia 14 persone Quante eravamo E Il fatto che a me Dà fastidio È che loro Ci hanno sputato Addosso A tutto quello Che noi abbiamo costruito E la cosa folla È che sono arrivati Pure primi Per assurdo Come beffa finale Sti cazzi Come beffa finale Perché ci stanno Persone Che si sono applicate Hanno seguito le regole E quant'arte Hanno perso Perché hanno seguito le regole È giusto? No Ho sbagliato io? Sì Sto pensando Di non giocare più Di fare soltanto Il supervisore E O di diventare un cane E quindi Di far Eseguire le regole Alla lettera Oppure Non lo so Non lo so Io Ecco Ogni volta che ne parlo Mi si riapre un po' La ferita Volevo fare questo video Anche per Per capire un attimino Secondo voi Cosa c'è Cosa Come si può risolvere Questa cosa Come dovrei comportarmi Ecco Più che altro Cioè La questione che poi Se ne parla anche fuori Che se Si infervora Alla gente Quando tu non stai davanti A me è una cosa Che mi Mi fa esplodere il cervello Le persone che mancano così Di rispetto A un qualcosa Che si è creato Che ci sputano sopra Perché Per loro è un giocarello De merda Capite? Per altre persone È un bel gioco È uno stile di vita È qualcosa che unisce Tutto quello che io Dico nei video E tu ci sputi E tu ci sputi così Mi sale un odio Che voi non avete idea E una tristezza Spero che non mi so Dimenticato niente Voglio chiudere sto video Perché potrei andare avanti A parlare peore Quindi Spero davvero Che queste due persone Non si presentano più In fumetteria Perché per me Possono anche Non venire più Io Spingerò per allontanarle Senza problemi Non voglio persone del genere Voglio persone che entrano Che capiscono La fortuna che hanno Poi chiaro che ci stanno Quelli lì che ti fanno Ma ho visto la carta Da due centesimi Sul market E qui ma fai A cinquanta centesimi Compritela sul market Paga tre euro e cinquanta Di spedizione Paga il cinque per cento Per fare l'accredito Sul market Quelli ci stanno Glielo spieghi E per ora ho visto A tre euro e novanta Tu la fai A quattro euro e dieci Comprala sul market Quindi Quelle Ci stanno Però la mancanza Di rispetto proprio Verso Una creatura Che tu hai cresciuto Che non hai avuto E che gli altri Ce l'hanno Hanno questa fortuna È davvero una cosa Che mi spezzo